Ciao a tutti, siamo i Magis of Lotus, benvenuti o bentornati sul nostro canale. In questo video vedremo se alcune carte richieste da voi sono da vendere o sono da tenere. Per partecipare alla rubrica è semplicissimo, basta che scriviate sul nostro qualsiasi contenuto video YouTube il nome di fine due carte assieme alla voce Keep or Sell e noi vi diremo se secondo noi queste carte sono da tenere o sono da vendere. Prima di cominciare vi invito a lasciare un like, attivare la campanella e ad abbonarvi qua oppure su Twitch. Allora, la prima richiesta ce la fa RedMed e consiste in tutti gli elementali di MH2, di Modern Horizon 2, nella versione inglese e nella versione regular. Allora, intanto ve li faccio vedere una volta, quindi sono Fury, Solitude, Subtly, Griff, Endurance e 1, 2, 3, 4 e 5 e basta. Esatto, quindi sono questi 5 qua. Allora, si giocano tutti e 5 in Modern, Legacy e Vintage. E in Modern si giocano in ciascuno in circa 5 deck, in Legacy si gioca ciascuno in circa 2-3 deck, in Vintage si giocano in media in 1-2 deck, tranne Endurance che si gioca in più deck, circa 4. Quindi Endurance tra tutte è quella più giocata. Allora, sono tutti aumentati di valore rispetto al loro prezzo iniziale, chi più chi meno. Mi pare che Fury sia quella che ha spiegato di più, perché partiva da 3-4 euro se non erro, quindi è stato veramente uno spike incredibile questo. Comunque, allora, io penso che questi elementali siano da vendere. Allora, in realtà, un attimo, non facciamo un discorso univoco, cioè facciamo un discorso prima generale, sì, e poi facciamo magari dei discorsi specifici. Quindi a livello generale, sì, penso che siano delle carte da vendere, perché? Perché hanno un valore alto, sono giocatissime in tre formati, probabilmente anche in Commander si giocano. E sarebbe, diciamo, stupido da parte della Wizard non ristamparli. Io mi aspetto che magari facciano 5 cofanetti, 5 secret layer, ciascuno con un'incarnazione e poi ovviamente altre carte. C'è la necessità di questa ristampa? Secondo me no, perché sappiamo benissimo che Moderna Ryzen 2 è stata ristampata tantissimo e in media hanno 500-700 copie, queste elementali adesso, su Cardmarket, tranne appunto Subtelic che ne ha 1.400 ed è anche quella col prezzo più basso. E tra l'altro, altra cosa, e quindi si dico non ci sarebbe questa necessità perché le copie comunque ci sono e soprattutto c'è tantissimo prodotto sigillato di MH2. Se voi date un'occhiata a Cardmarket, box e bustine ce ne sono veramente tante, quindi in realtà secondo me non ci sarebbe tutta questa necessità, ma la Wizard giustamente ristamperà lo stesso perché non possono non ristampare un prodotto che venderebbero bene, con buonissime probabilità. Quindi questo era il discorso diciamo generale. Poi parliamo un attimo nello specifico, allora Fury io appunto la venderei perché comunque sono 40€, stesso discorso per Solitude. e Subtelic ha un prezzo più basso in realtà, però ha anche tante copie, cioè 1.400 copie, quindi insomma ci vuole un po' di coraggio per investire, per speculare su questa carta. Anche perché a differenza delle altre non si gioca in 4x, ma si gioca in 1-2x. L'unica carta tra queste forse che non venderei è Griff perché è giocatissima in 4x, le copie non sono così tante, cioè sono 680 appunto, però come ho detto prima c'è tanto prodotto sigillato e ha un prezzo abbastanza modesto perché parliamo comunque di 20-25€ per una carta che si gioca in 4x e in tre formati. Quindi questa la terrei, tutte le altre le venderei, su Endurance c'è da dire che è quella diciamo su cui volendo si può fare più speculazione perché qualora dovessero esserci dei meta modern o legacy o vintage particolarmente diciamo indirizzati verso il cimitero, per esempio quando ci fu il meta con Ogak e che poi fu bannata, comunque per esempio Ogak fece spaicare un uncommon di Zendikar, un istantaneo, e perché esiliava appunto tutto il cimitero e con zero mana. Io penso che Endurance possa avere, cioè gli possa succedere una cosa simile, ma non è detto, cioè se qualora si verificasse un nuovo meta del genere in base a qualche carta nuova che potrebbero stampare, Endurance potrebbe essere oggetto di speculazione, ma comunque è un'ipotesi abbastanza improbabile, cioè non è improbabile, ma è più probabile che arrivi prima la ristampa nei Secret Lair o altri prodotti. Quindi anche Endurance, secondo me, visto il prezzo che ha raggiunto, è un sell. Quindi in sostanza sell di tutti, tranne che il Griff che farei Keep. Poi andiamo a vedere la prossima carta che ce la chiede Matteo, che è Sheholdred, e ce la chiede sia nella versione Steep and Complete Foil che nella versione, diciamo, scritta in firexiano, è sempre Foil però. Allora, allora, Sheholdred, vabbè, lo sappiamo benissimo, in realtà non è la prima volta in cui vi facciamo anche il porsale su questa carta, ma voi ce l'avete chiesto più volte, anche in versioni diverse, quindi insomma vi rispondiamo. Allora, questa versione qua probabilmente a livello, non so, di disegno, a livello artistico, forse è quella che mi piace di più, però la trovo molto meno, diciamo, come dire, utile a livello collezionistico di questa Sheholdred, che è nella versione firexiana. Sappiamo tutti che tutti i firexiani, tutti i pretori, sono stati stampati anche appunto con queste scritte in firexiano che oggettivamente penso siano dei bei pezzi proprio da collezione. Quindi, a mio avviso, questa versione qua è un keep, è un keep perché credo che nel corso del tempo sarà sempre ricercata. Questa versione qua, invece, con un prezzo più o meno simile, io questa la venderei e appunto se non so se avessi questa magari cercherai di scambiarla con la versione firexiana. Quindi questo è un sell, chiaramente la carta si gioca, sappiamo tutti che Sheholdred si gioca ovunque e quindi sì, non è una carta da svendere assolutamente perché si gioca anche in 4x in formati come standard e in Pioneer ha potenziale per essere giocata in 4x, chissà. E quindi keep questa, scusate, sell questa qua in step e complete foil, keep questa qua in firexiano. Poi abbiamo Ale Matta, che è un abbonato, e ringraziamo tantissimo perché è proprio abbonato da tempo, che ci chiede, keep or sell, questa versione qua dei Planeswalker di, appunto, di War of the Spark, la versione appunto giapponese alternativa. La versione però purtroppo non foil. Allora, rivediamo un attimo ancora il quadretto perché è veramente bello. Allora, i Planeswalker dovrebbero essere tutti qua, sì, o controllate in realtà, sono tutti. e quindi tanto complimenti per la collezione. E poi, allora, andiamo un attimo a vedere. Questi sono i prezzi, appunto, dei Planeswalker in questa versione. A parte quindi quelli che si giocano, tipo Narset, Teferi e Karn, e i prezzi sono, diciamo, abbastanza, e Nissa anche, ok, che adesso si gioca molto di me, in realtà però ho mantenuto un prezzo. I prezzi sono abbastanza bassi, come dire, o meglio, sono bassi rispetto a questi qua. Cioè, vedete, quelli foil partano quasi tutti da 100€, a parte questo atteglio che sta a 20€, ma quelli foil hanno tutto un altro tipo di mercato, cioè, tutto un altro tipo di prezzo, ma anche, guardate quei numeretti, questi numeretti qua, in basso, sono... è la tiratura. Vedete che le foil sono veramente poche, mentre quelle che hai tuole sono un po' di più, e chiaramente hanno un prezzo più basso. Allora, io faccio questo discorso qua. Anche se, diciamo, c'è un buon numero di copie su Mekap M, penso che tu sia una delle poche persone ad avere tutta la collezione completa. Quindi, secondo me, può essere un sell se riesci, diciamo, a venderlo a un valore che è almeno di due terzi superiore a quello che è stato il tuo investimento. E come lo venderei? Lo venderei facendo un'asta, su qualsiasi... dove vuoi tu. Un'asta in cui parti però con un prezzo base che è vicinissimo a quello dei due terzi. Cioè, già il prezzo deve essere un prezzo, da cui parti, simile a quello che tu... cioè, un prezzo che ti dovrebbe già andare bene. Quindi, anche se ricevi solo un'offerta, dovresti essere contento. Io ho prodotti come questi, che hanno appunto... cioè, che sono disponibili in poche copie. Le carte sono tante, ma, come dicevo prima, quante persone hanno tutta la collezione completa? Diciamo che vedere una foto così comunque suscita qualcosa nelle persone. E quindi, cioè, ci sta, dico che... che ci possa essere in realtà una buona asta. Ed è proprio un valore tanto aggiunto al fatto di avere tutti questi planeswalker. Quindi, secondo me, è un sell in base, appunto, se... se riesce, appunto, a fare almeno due terzi del valore che hai speso tu. e se diciamo... sì, non mi aspetto che salga troppo nel corso del tempo, ecco questo. Però, insomma, se hai bisogno di qualche... insomma, di qualche moneta, di qualche dindino, ci può stare tranquillamente il sell. È un bel prodotto. Bravo, ottimo acquisto. Poi abbiamo Pino che ci chiede il secret layer e questo qua from cute to brute e nella versione l'unica che c'è, questa qua dove ci sono in sostanza cinque carte foil mi sembra queste qua Avacyn il Keeper Zika Nicol Bolas la Bazzia e più tantissime altre carte quale vediamo che... allora, sono tutte belle carte queste però non sono proprio staples staples del... di Pioneer e Modern cioè sono carte che si possono giocare tipo questo Nicol Bolas tipo Avacyn e... Valky forse è l'unica che si gioca in un au pair comunque e si gioca anche in Modern però non sono proprio carte che secondo me è semplicissimo sono semplici proprio da rivendere quindi visto che il secret layer in teoria tu l'hai comprato a 150 euro perché questo... ah no questo è il prezzo già in euro ok perché una volta mettevano i prezzi in dollari ok quindi l'hai comprato a 160 euro 165 euro e... adesso si vende lasciamo stare questa versione qua dell'Inghilterra che non spedisce neanche in Italia comunque a 175 quindi 10 euro in più ma in realtà insomma io a questo punto lo venderei visto che comunque ha avuto un piccolo aumento di prezzo però non a 170 chiaramente ma almeno a 190 proverai dai 190 in su anche qua magari puoi fare un'asta ovviamente non avrebbe appeal come l'asta di Ale però sì ci può stare comunque dai 190 in su perché appunto dico sell perché sono carte comunque tutte queste che sono regular e che non sono proprio così indispensabili secondo me e ecco ci sono anche i pathway in realtà questi sono questi sono belli però anche i pathway in realtà man mano che passa il tempo secondo me saranno giocati sempre di meno in in pioneer e oggettivamente queste 5 carte qua foil sono vabbè poi ovviamente soggettivi cioè oggettivamente no però dico sono quindi soggettivamente in realtà possono piacere o meno ma oggettivamente non sono carte che sono dei must nei vari formati quindi molto bello questo Nicol Bolas ricorda quasi un un pokemon in realtà una versione simile a un pokemon e e non è appunto un non lo dico appunto in in senso dispregiativo c'è il disegno mi piace e però appunto sono carte che non sono ricercatissime queste qua che sono quelle foil quindi bello acquisto perché comunque il sell lo spike c'è stato di 10-20 euro però appunto io proverai a vendere bene ragazzi vi ringrazio scusate se mi sono dilungato un po' ci vediamo presto e fatti bravi ciao 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 Grazie.